Voglio vivere così, col sole in fronte, e felice canto, beatamente. Voglio vivere e goder l'aria del monte, perché questo incanto non costa niente. Vivere così, col sole in fronte, e felice canto, canto per te. Buon inizio di giornata a tutti voi telespettatori e telespettatrici di Rossini TV. Venerdì 11 ottobre, ore 7.20, siamo come sempre in diretta dagli studi pesaresi di Rossini TV di Via degli Abeti. Buongiorno Rossini, questa nostra trasmissione quotidiana dal lunedì al sabato, sempre rigorosamente in diretta, per darvi le prime informazioni della giornata, quelle che arrivano dalla rassegna stampa dei quotidiani locali Corriere Adriatico e resto del Carlino Cronaca di Pesaro. Come sempre, prima di andare sui giornali, andiamo a dare uno sguardo ad uno dei nostri territori, su come si presenta alle porte di questo weekend. Questa volta lo sguardo è gettato sul mar Adriatico, dalla spiaggia di Bagni Gilberto, dalla webcam che è attorno a Bagni Gilberto sul litorale di Pesaro. Vedete, tempo che si preannuncia sereno con qualche nuvola a velare un po' questo sole, e questa è anche la conferma del meteo di oggi. Tempo sereno al pomeriggio, parzialmente numeroso in mattinata, temperature comunque sostenute che supereranno i 20 gradi anche nella giornata di oggi, con minime che invece si aggirano sui 13-14 gradi. Situazione analoga nel resto delle Marche, con qualche piovasco che si catalizzerà soprattutto nelle aree interne, più sereno il tempo in tutta la costa, dalla Pesarese all'Ascolano. Questo lo sguardo su territori e meteo. Andiamo ora alle prime pagine, cominciamo dal resto del Carlino, cronaca di Pesaro. Vedete qua la notizia che ha dominato anche il nostro telegiornale di ieri, il blitz in comune per il caso degli affidamenti diretti, in particolare verso le associazioni Opera Maestra e Stella Polare. Qua vedete due degli inquirenti che ieri hanno fatto visita al comune di Pesaro, c'è stata questa serie di controlli di guardia di finanza e polizia. Leggiamo i titoli del Carlino, in comune c'è il terzo indagato a Fidopoli, sotto accusa anche il funzionario Pascucci, polizia e finanza a casa sua di tre dirigenti, Arceci sentito per sette ore. Copiati i documenti da mail, pc e telefoni, la procura cerca il regista del sistema Santini. L'ex capo di gabinetto di Ricci dice non sono inquisito, parliamo di Arceci, ma persona informata sui fatti. Un'altra notizia ha dominato la giornata, le dimissioni shock di coach Pino Sacripanti, allenatore della VL, il coach lascia all'improvviso motivi personali, domani a Rieti in panchina andrà il vice Baioni. E poi il caso Denghe, l'Organizzazione Mondiale della Sanità vuole contromisure per il caso Fano. E poi un'avvertenza ai cittadini, chiudono le poste centrali di Pesaro per lavori fino al 21 di novembre. Ieri un'altra forte piovuta ha portato alcune criticità, continua quella del centro direzionale Benelli, del quale ci siamo occupati recentemente, di nuovo allagato e poi con una cascata d'acqua dal tetto, e poi è stata isolata una frazione di Cantiano territorio, sul quale è tornata un po' di paura, ma nessun disagio concreto. E poi ieri, la giornata della solidarietà in omaggio nel ricordo di Don Gaudiano, l'omaggio degli alunni nel nome delle prete degli ultimi, a 31 anni dalla morte. A San Lorenzo, in campo, durante la conferenza Il pane comune, è stata recitata una poesia del duce di Mussolini al convegno ed è polemica. Declamati i versi di Mussolini senza citarlo, ma qualcuno se ne accorge e li giudica inopportuni. Uber per quanto riguarda il resto del Carlino, cronaca di Pesaro, prima pagina del Corriere Adriatico che è dominata dallo stesso tema, prima visione, prima visione di documenti nell'inchiesta della Procura di Polizia e Finanza che prelevano le carte negli uffici comunali, tre indagati per il caso Affidi. Ascoltato a lungo, come dicevamo, il fedelissimo Franco Arceci che dice non sono sotto inchiesta, parla il sindaco Biancani, tutto previsto, ma io sono qui solo da quattro mesi e poi c'è un ragionamento che va oltre, va in termini politici, verso le regionali. Il Corriere Adriatico analizza come tutta questa situazione mette molto in bilico la posizione di Matteo Ricci come possibile candidato di centro-sinistra alle prossime regionali. Le altre notizie, le dimissioni di coach Sacripanti sia da allenatore che da GM e poi questo impatto tra associazioni di categoria e prefettura su Spycam e sicurezza per aumentare l'efficacia dei controlli sul territorio. E dunque queste le due prime pagine di oggi, venerdì e 11 di ottobre. Cominciamo la consultazione all'interno dei due quotidiani e lo facciamo rimanendo proprio sulle Corriere Adriatico. Eccolo qua, blizzi in comune, cinque uffici perquisiti. Qua vedete le immagini anche del nostro servizio con gli inquirenti che hanno fatto visita, li vedete qua negli uffici comunali, in particolare è stato ascoltato Franco Arceci, cinque gli uffici perquisiti. E spunta il terzo indagato, si tratta del funzionario ai lavori pubblici Loris Pascucci che si aggiunge ai precedenti nomi di Stefano Esposto e Massimiliano Santini delle due associazioni. Qua vedete Arceci che è stato a lungo ascoltato in questa visita appunto che è durata tanto, è durata dal 9 di mattina fino a metà pomeriggio. E sul Corriere Adriatico dice anche Arceci queste parole. Indagato quando mai, Arceci parla per sette ore, dalle 9.30 faccia a faccia con gli inquirenti. L'ex capo di gabinetto di Ricci ha mantenuto la presenza con una serie di incarichi. e poi qua vengono riproposte le tappe della vicenda, in particolare quelle che ha portato la Procura ad agosto ad aprire un fascicolo senza ipotesi di rato per la gestione degli affidi del Comune di Pesor. Si tratta di affidi diretti sotto la soglia dei 40.000 ai 150.000 euro. Tutto parte dal fatto che per oltre tre anni siano stati assegnati lavori per più di 600.000 euro ad Opera Maestra e Stella Polare, due associazioni no profit. Stefano Esposto è stato il primo nome perché era capo dei due sudalizi. Il nome è suggerito quello di Massimiliano Santini perché nello staff dell'ex sindaco Ricci come organizzatore di eventi e come tre d'union tra il Comune e Opera Maestra e Stella Polare. Questa tappa del 10 ottobre arriva dopo un'altra significativa, quella del 26 settembre con le perquisizioni a casa di Santini ed esposto entrambi indagati per concorso in corruzione. In questa seduta è spuntato questo terzo indagato, il funzionario comunale Loris Pascucci, indagato per falso e ascoltato a lungo Franco Arceci come ex capo di gabinetto di Ricci e persona informata sui fatti. Voltiamo pagina e andiamo alle parole di Biancani che vi abbiamo riportato nel nostro telegiornale. Svilupperemo altri argomenti anche nel notiziario di questa sera. Biancani con estrema franchezza ha detto che mi aspettavo questo blitz, la situazione è pesante, ma sono arrivato da quattro mesi, non posso centrare nulla con questa vicenda, ha detto che metterò tutto a disposizione degli inquirenti. Ha chiarito la posizione di Arceci che non ha un suo ufficio ma si appoggia per alcune collaborazioni che continuano per la sua lunga esperienza negli uffici comunali e intanto anche in questa intervista Biancani annuncia cambiamenti nella struttura comunale. E poi anche ieri al nostro microfono è intervenuta Serena Boresta, capogruppo coordinatrice comunale di Fratelli d'Italia, a nome dei consiglieri comunali, era presente durante questo blitz, il centrodestra in coro dice uno scandalo senza precedenti, adesso la giunta si dimetta, il centrodestra l'attacco, Biancani cacci gli assessori che sedevano con Ricci, l'ex sindaco è scappato lasciando solo i dirigenti e colleghi che l'hanno aiutato. Parla anche la responsabile dell'associazione Evolviamo nonché ex candidata sindaco Pia Perricci, esposto contro di me un atto intimidatorio, potete leggere tutti i dettagli nell'articolo di Luigi Benelli. E poi l'effetto domino secondo il Corriere Adriatico sulle regionali, la corsa di Ricci rallenta, Acquaroli e Compani brindano. Qua vedete una fotografia di Ricci e Acquaroli affiancati, risalente di fatto ai consigli monotematici sulla sanità che hanno visto ospite Acquaroli a Pesaro. L'ex sindaco di Pesaro è un candidato forte, lo resta per quello che riguarda le elezioni 2025 alla Regione Marche, che per ora, secondo il Corriere Adriatico, centrodestra e detrattori interni sono pronti a usare l'inchiesta contro di lui. Accuse di Fratelli d'Italia, come da un altro parlamentare europeo, Carlo Ciccioli, che dice che Ricci è stato l'ultimo alchimista a saltato il sistema Pesaro, di cui era la massima espressione. Parole importanti anche dall'ex sindaco, nonché ex presidente della Regione, Luca Ciccioli, che dice, a me una situazione del genere non sarebbe successo, può diventare un ostacolo. Matteo resta la prima scelta comunque per adesso. Ciccioli spiega, non sarebbe successo perché dice, io stavo sopra le cose, Ricci non gestiva invece gli aspetti dirigenziali. Non è una bella situazione, va risolta in fretta. E poi, ve ne abbiamo parlato anche nei giorni scorsi del nostro Tg, questa fotografia un po' in ombra che vede la presenza dei vertici di Confcommercio e Confesercenti, Varotti e Ligurgo, assieme al prefetto Emanuele La Severa Greco, ai vertici di Questura, Carabinieri e Finanza. C'è un patto tra la prefettura e le associazioni per potenziare videosorveglianza e sicurezza, una cabina di regia con le forze dell'ordine per monitorare questo protocollo, un'intesa a protezione delle attività commerciali nel territorio provinciale. E poi sono spuntate multe per 18.500 euro per alcune indagini degli ispettori del lavoro su cinque industrie nel Pesarese, viste alcune irregolarità, tra i quali anche macchinari manonimessi per aggirare le norme di sicurezza sul lavoro. E poi a Pesaro si vedrà un po' diverso l'area del San Decenzio in questi giorni, perché arrivano 150 camper a partire da oggi, infatti c'è il raduno nazionale dei camperisti che ha scelto Pesaro, capitale della cultura, tre giorni di iniziative sparse per la città, ma che avranno come area dell'intera rassegna quella del San Decenzio. E 155 camper, chiuse le iscrizioni a questa quota perché poi non era più in grado di contenergli la stessa area del San Decenzio. E poi andiamo avanti con il discorso della Dengue, giocare d'anticipo in primavera con le disinfestazioni delle aree private, scienziati Unicam sui casi a Fano e Pesaro, caldo e umidità hanno favorito l'arrivo delle zanzare. Tema del quale ci siamo occupati anche ieri nel nostro telegiornale, in particolare con un'analisi, vedete qua assieme all'ASPES SPA dei trattamenti adulticidi che sono stati effettuati, con il presidente ASPES Luca Pieri, anche un appello, oltre alle disinfestazioni notturne che vedete qua monitorate e che sono state effettuate nelle zone mare e porto di Pesaro, anche un appello a comportamenti responsabili per evitare ristagni d'acqua che continuano a favorire la proliferazione della zanzara tigre. Andiamo avanti e passiamo sempre relativamente ad ASPES, a questo abbattimento di un albero, Nippo Castano, in Piazzale Primo Maggio, abbattuto per questioni di sicurezza. Il presidente ASPES risponde alle polemiche social, non abbiamo l'obiettivo di sopprimere piante. Qua vedete la foto di Piazzale Primo Maggio dall'alto di questo albero abbattuto per questioni di sicurezza secondo ASPES. E poi ne abbiamo parlato nei giorni scorsi per quanto riguarda questo nuovo servizio di controllo del parco, per tre pomeriggi alla settimana ci sarà un presidio, parliamo del parco Miralfiore, un presidio della protezione civile per tre pomeriggi alla settimana che di fatto saranno importanti sentinelle per situazioni di rischio o di degrado in un'area sensibile come il parco Miralfiore. Un altro servizio dunque per aumentare la sicurezza ma soprattutto la percezione di sicurezza nel parco Miralfiore attraverso i volontari di protezione civile. Poi, ne abbiamo parlato anche ieri nel nostro Tg, dopo gli atti vandalici è stata riaccesa la biosfera in Piazza del Popolo ieri, è una biosfera riaccesa dopo l'intervento di sabotaggio avvenuto nella notte tra sabato e domenica scorsa, un intervento di sabotaggio sul quale indaga la questura con l'acquisizione dei filmati di videosorveglianza presenti in questa zona centralissima della città. Da Pesaro ci spostiamo a Durbino che torna ad avere una pista di atletica leggera, da Trentani allo Stadio Montefetto torna ad Atletica Leggera con la staffetta, inaugurate le nuove attrezzature, presentate le gare Fidal che si svolgeranno già domenica, dunque potenziati i servizi per quanto riguarda questa disciplina nello Stadio Cittadino Montefeltro. Caso Urbino Servizi, prosciolti quasi del tutto 35 imputati, il legale dell'ex direttore dei 12 capi d'accusa resta solo un dettaglio tecnico. Proseguiamo con Fano, importante accordo su un'area di degrado e di bivacchi frequenti, quella dell'ex Vittorio Colonna, l'accordo con l'Invimit per creare 50 nuovi parcheggi, dunque un'area di sosta in un punto strategico, qua vedete la firma tra Indivit, il sindaco Serfilippi e l'onorevole Mirco Carloni, così allontaneremo anche i bivacchi dei Balordi. Sempre su Fano volano i droni sulle mura romane, mappa completa dell'antica città, uno studio avveniristico della Politecnica, il professor Clini dice sarà utile agli storici ma anche al turismo. E poi non riguarda Fano ma riguarda Cantiano, vi ricordiamo che questa domenica c'è la prima dei due appuntamenti con Cantiano, Fiera Cavalli a Chiaserna di Cantiano, 45esima mostra mercato regionale delle Cavaglio, 38esima rassegna del Cavallo del Catria, due domeniche con un evento unico a valorizzare un'eccellenza come il Cavallo del Catria, saranno presenti anche le nostre telecamere in questa domenica 13 ottobre. Proseguiamo con il bando per le valorizzazioni delle mura storiche nella provincia, un milione per le cinte murare, presentate i progetti dei tre comuni vincitori che riguardano Pergola, Sasso Covara Auditore e Pian di Meleto per queste risorse pari a un milione di euro. Ieri la forte pioggia ha creato problemi in un'area già martoriata, ricorderete quella di Cantiano, è stato esontato il Palmbano con la frazione rimasta isolata, è reso impraticabile il ponte che porta verso l'altra frazione di Casella, disagi che hanno riportato alla mente quanto avvenuto a settembre 2022. Furto particolare a San Costanzo, rubano rame dalle grondaie, cinque incursioni, un lavoro minuzioso che ha riguardato anche le mura castellane, furto come dicevamo avvenuto a San Costanzo. E poi, l'abbiamo presentato nei giorni scorsi, la nascita di una capitale diffusa e questo documentario realizzato dal regista Fabio Galli, che valorizza anche Gradara, è stato presentato in anteprima questo videodocumentario di fatto celebrativo della genesi di questa Pesaro, capitale della cultura. Vi ricordiamo che il documentario verrà trasmesso proprio oggi su Rai 3 alle 16, dopo l'anteprima avvenuta nei giorni scorsi in Comune di Pesaro. Per quanto riguarda Gabbicce Mare, il Comune si è aggiudicato 45 mila Euro per servizi digitali integrati, verranno investiti nel potenziamento del portale turistico del territorio. Dalla provincia pesarese ci spostiamo all'Anconetano, dove ieri abbiamo effettuato un servizio per quanto riguarda il G7 Salute, una manifestazione unica nel suo genere, che ha portato delegazioni da 16 paesi internazionali, da 16 paesi da tutto il mondo, a questo confronto planetario sulle dinamiche della salute. Un orgoglio per Ancona, qua vedete tutti i ministri e i segretari della salute internazionale riunitisi proprio al cospetto della mole vanvitelliana, tante tematiche trattate. Qua vedete il ministro Schillaci che ha accolto il segretario della salute giapponese, vedete quello dell'Arabia Saudita, un appuntamento che continua anche oggi ad Ancona. Tra i temi trattati, tornando sul Corriere Adriatico, anche una riflessione da parte del ministro Schillaci sulla Deng che si sta canalizzando proprio sul nostro territorio, Schillaci dice il trend preoccupa ma con il freddo i casi caleranno, nelle Marche non c'è una diffusione di massa. Riflettori dunque puntati anche dal ministro sui 130 effetti a Fano e i due di Pesaro. Lasciamo il Corriere Adriatico e passiamo al resto del Carlino. Prima di andare sul Carlino andiamo anche a vedere alcune delle immagini che ci avete inviato, in particolare nella giornata di ieri. Il cielo ha dato spettacolo ieri, buona giornata da Monte Ciccardo, immagini di un bel arcobaleno ripreso da un nostro telespettatore. e un nostro telespettatore che testimonia ieri la giornata di meteo particolare con pioggia e di nuovo un arcobaleno che si è riproposto. E questo invece è il fenomeno dell'aurora che è andato invece a dominare l'area sul San Bartolo. sempre nella giornata di ieri, altre immagini recapitateci dai nostri telespettatori che vi invitiamo a inviarci, come sempre, al numero WhatsApp dedicato 370-366-7210. Andiamo ora al Carlino, come dicevamo, dopo avervi mostrato la prima pagina andiamo a sviluppare anche qua come si è occupato il Carlino del caso Affidopoli, così l'ha ribattezzato il Carlino che ricordiamo è genitore di questa inchiesta sollevata proprio dal quotidiano a metà luglio. Perquisiti dunque Arcece, quattro dirigenti, spunta anche il terzo indagato, polizia e finanza in case e uffici, copiati contenuti di computer e dei cellulari, focus su mail e messaggi di tutte le persone coinvolte sotto accusa, come detto, anche per falso il funzionario Loris Pascucci per la determina sulle manutenzioni idrauliche. Qua vedete le immagini di Arcece, di uno degli inquirenti, anche qua Arcece ascoltato dalla Guardia di Finanza, Arcece che ha detto non sono inquisito dopo essere stato ascoltato per 7 ore, squadra mobile e fiamme gialle, sono arrivate alle 9.15, sono andate via alle 16.30, hanno presi documenti che cercavano, Arcece dice ho collaborato come persona informata sui fatti. Dicevamo c'è il terzo indagato, il funzionario comunale Loris Pascucci e poi al centro del caso, come li etichetta il Carlino, i due amici, Massimiliano Santini, ex responsabile eventi del Comune e Stefano Esposto, presidente delle associazioni Stella Polare e Opera Maestra. E poi il Carlino ripercorre l'intera inchiesta che vedete qua all'inizio della valanga, il verde mai visto di piazzale d'annunzio e le parole di Esposto. Adesso su due piedi faccio fatica a rispondere e mi prendo un appunto. Partì così l'inchiesta del Carlino che ha portato a clamorosi sviluppi giudiziari. Qua vedete sono 12 articoli riportati dal Carlino, probabilmente sono molti di più, ma 12 più significativi cominciati dal 16 luglio. Con questo che poi ha scatenato tutto il resto, c'erano dubbi sui interventi di manutenzione fatti o non fatti su piazzale d'annunzio nell'area del casco. Il comune ha pagato 53 mila euro per il verde, ma cosa è stato fatto? Questo non ricordo di Esposto ha scatenato questa ricerca e questa inchiesta. Il centrodestra ha detto, come dicevamo, la giunta si deve dimettere subito il più grave scandalo della città. Reazione del centrodinistra che ha detto la destra criminalizza l'intera comunità e poi il sindaco Biancani che dice, sì me l'aspettavo e ora cambiamo tutto in termini di struttura di uffici comunali. Andiamo avanti e parliamo della temporale di ieri che ha riportato in auge il caso del centro Benelli, altri scrosci d'acqua dalla tetto che mettono sempre più in pericolo la tenuta delle travi. Ce ne siamo occupati anche la settimana scorsa con il sopralluogo anche del sindaco che ha annunciato uno studio per intervenire su questa struttura. Ricordiamo che intanto non si passa qua sotto perché l'area è stata transennata. Continuano a cadere detriti delle travi che sostengono la copertura della piazza. La colonna, dicono i commercianti, non riceve più perché è intasata. Speriamo che il comune intervenga prima che sia troppo tardi. Ieri la giornata della solidarietà a 31 anni dalla scomparsa di Don Gianfranco Gaudiano, due momenti di confronto al mattino, mattinata di emozione al teatro sperimentale, premiati i vincitori del concorso riservato ai ragazzi delle superiori. E poi sulla dengue e il caso Marche, la scienza si interroga. Sui 625 casi emersi in Italia da gennaio, 129 sono nostri registrati in un mese. Se c'è la zanzara tigre è perché ci sono le condizioni, dice il virologo Massimo Climenti, è fondamentale disinfestare. E qua vedete un'immagine che vi avevamo mostrato poco fa anche nel servizio con Aspes della disinfestazione notturna nella zona mare di Pesaro. Proseguendo con le notizie del Carlino, come ogni venerdì c'è la pagina intera dedicata a Pesaro, capitale della cultura. Oggi a Palazzo Gradari c'è un secondo appuntamento di questa connessione col mondo e la tradizione cuciniera dell'industria cuciniera pesarese, in collegamento con la Fondazione Scavolini. Oggi Palazzo Gradari riapre le porte al design con il progetto Cucina e Generazione Z, secondo incontro del progetto che indaga le trasformazioni di questo spazio fra i relatori, l'innovativo duo formato da Valentina Dalciotto e Simone Spalvieri. E poi andiamo a ricordare anche che domenica 27 ottobre ci sarà lo scienziato di fama mondiale Stefano Mancuso, direttore del Laboratorio Internazionale di Neurobiologia Vegetale, ad aprire la rassegna OnArt Pesaro. Eccolo qua, Stefano Mancuso in fotografia. Continua poi il percorso dei 50 comuni capitali al quadrato, capitali della cultura, per una settimana. Dal prossimo lunedì 14 ottobre sarà la volta di lunanno, con una settimana di esperienze immerse nella natura. Un'importante avvertenza, chiudono le poste centrali per più di un mese, ci sono infatti dei lavori previsti al Palazzo delle Poste giù i battenti da lunedì prossimo nell'ufficio di Piazza del Popolo, la decisione è stata presa per l'effettuazione di lavori nella sede. Resterà chiusa dal 14 ottobre al 21 novembre. I servizi principali, anche per il ritiro delle raccomandate, verranno dirottate nella sede sempre del centro storico in via Mastro Giorgio. Andiamo su Fano, soldi alla Proloquo, eccole delle libere, Lucarelli le presentava e le votava nel 2019, l'assessore si era dimesso da presidente del suo dalizio, c'era Gino Bartolucci, suo socio in affari. L'inopportunità politica, scrive il Carlino, dopo quegli atti amministrativi il nome del delegato al turismo scompare, risultando assente. E poi, benvenuti al Parc Vittorio Colonna, subito 50 posti auto, siglato a Roma l'accordo tra il Comune e la società InVimit, proprietaria dell'immobile da tempo disabitato, i parcheggi saranno gratuiti solo la prima ora, il parlamentare Carloni dice, iniziato il progetto di rilancio. Da Fano a San Lorenzo in campo, durante una rassegna poetica è stata decantata una poesia di Mussolini sul pane, bufera a San Vito sul Cesano, l'organizzatrice legge l'odet accendo l'autore, un consigliere comunale la riconosce e grida allo scandalo. Lei dice, rifarei tutto, il sindaco Dell'Onti dice, non sono un cultore dell'epoca, se avessi saputo che la scrisse non l'avrei letta. Passiamo ad Urbino, Urbino Servizi, cadono le accuse tranne una, assolti o prosciolti 34 imputati, a dibattimento l'ex direttore Sciamanna, ma solo per falso. La legale dice, un episodio minore, è la fine di un calvario. Stadio Montefeltro, la pista rinasce, ecco le nuove strutture di atletica, ieri la Giunta ha inaugurato il rifacimento, domenica ci sarà la prima gara, l'assessora vetrice ospiterà anche eventi di livello nazionale. Per quanto riguarda Cantiano, a Pian di Balbano, come detto, ritorna la paura all'ovione, esonda il comune alcune famiglie semi-isolate. Ieri il temporale ha danneggiato guado e condotta dell'acqua temporanea. Il sindaco Piccin dice limitare gli spostamenti in questa zona. Poi torniamo sulle segnalazioni di voi telespettatori, che come sempre vi invitiamo a inviarci al numero Whatsapp dedicato 370-366-7210. Un telespettatore ci dice, volevo dirvi che è importante sicuramente combattere le zanzare con la disinfestazione, ma in questo modo non è pericoloso per le api importantissime per il nostro ecosistema. Naturalmente questo può essere un effetto collaterale. Purtroppo in questo momento non abbiamo la competenza per rispondere su questo tema, ma naturalmente ci informeremo anche su questo caso, sicuramente degno di menzione e di riflessione. E ora andiamo sullo sport quanto mai significativo per il caso delle dimissioni di coach Pino Sacripanti dalla VL, lo facciamo cominciando dal QS quotidiano sportivo del resto del Carlino, tema naturalmente che è stato trattato anche ieri nella nostra puntata di Insieme a Canestro, dimissioni shock, Sacripanti lascia, motivi personali, il club chiede privacy sulla vicenda, intanto domani a Rieti guida Baioni. Pino ricopriva il doppio ruolo di coach GM, ora la società ha il problema di sostituire due figure cruciali. Qua vedete Giacomo Baioni, vice di lunga esperienza, che guiderà la squadra nella trasferta di Rieti, che ricordiamo si gioca domani sera. E poi andiamo al calcio, la V si invece gioca domenica in casa con il Pineto, ma ci si sofferma sulla festa alla presenza degli sponsor della squadra, la V si chiama i suoi sponsor per fare squadra, Stellone lascia tutto aperto per la formazione. Due temi, con una serata dedicata alle imprese che sostengono il club, con la partecipazione della squadra. Venendo al campo, il Pineto arriva a Pesaro in una settimana in cui ha esonerato il suo allenatore Cudini e ha scelto Tisci per la panchina. Dalla Vispesaro andiamo al Corriere Adriatico con le altre notizie di sport. Vediamo come ha trattato il tema delle dimissioni di Sacripanti il Corriere Adriatico con anche qua la parola shock ricorrente. Sacripanti lascia, dimissione sorpresa del coach dopo l'ultimo allenamento. Il club dice motivi strettamente personali, squadra affidata al vice Baioni e all'assistente Pentucci in vista della trasferta di domani sera a Rieti. Oggi pomeriggio in partenza la squadra per il match in terra relaziale con la Real Sebastiani che ha gli stessi punti della Carpegna prosciutto basket Pesaro. Andiamo al calcio con la Vispesaro. Intervista a Paganini, reduce dal suo primo gol nell'1-1 di Sestri Levante. Paganini commenta, la visse è una bella famiglia e le manca a qualche punto. Paganini che ha avuto anche un trascorso in Serie A è molto soddisfatto del gruppo, meno degli arbitraggi. E dunque vi ricordiamo, Bispesaro, Pineto, domenica al Benelli alle 17.30. Poi la Serie D, Fossombrone, ecco, Rigioni. Il difensore potrebbe presentarsi come fresco ex dopodomani nel derby in programma Civitanova. era stato già avvistato domenica al Bonci, ieri si è allenato e ha firmato il suo ritorno in bianco-azzurro. Torniamo anche alle segnalazioni di voi telespettatori con altre belle immagini ancora riferite all'arcobaleno di ieri. Immagini dall'altro capo della provincia, prima vi abbiamo mostrato Monte Cicardo, invece questo nostro telespettatore Paolo ci mostra l'arcobaleno con il tramonto in lontananza sopra il Monte di Carpegna. Vi ringraziamo per queste belle immagini che ci mostrano da dove ci seguite, in questo caso dalla estremità montuosa della provincia di Carpegna, segnalazioni che vi ricordiamo di mandarci come sempre al numero WhatsApp dedicato 370-366-7210. Prima di andare sulle appuntamenti sulla nostra emittente in questo venerdì, ma non solo, vi ricordiamo un appuntamento in città a Pesaro questo sabato, 12 ottobre, le nostre telecamere saranno presenti dalle 16 alla inaugurazione della nuova concessionaria Omoda Giaeco di Pieralisi, presso la concessionaria Pieralisi in strada della Romagna 161, appuntamento come detto a partire dalle 16. Andiamo invece ora agli appuntamenti su la nostra emittente, a partire da ciò che avviene subito dopo il TG, il magazine La Natura della Cultura, oggi andremo a scoprire l'Unano Capitale al Quadrato nel progetto 50x50 di Pesaro 2024, appuntamento alle 8, alle 13 e alle 20, così come al lunedì e al mercoledì, con il riassunto delle tre puntate settimanali domani alle 12 e alle 19 e domenica alle 15 e alle 21. E poi la replica per chi se la fosse persa ieri in diretta di Insieme a Canestro, puntata che come sempre va in onda in diretta al giovedì alle 21, potrete rivedere tutto oggi alle 15.30 e alle 22 e repliche anche domani alle 11 e alle 20.45 e domenica alle 9.30 e alle 14. Ieri nel salotto di Elisabetta Ferri e Alessio Zaffini sono stati presenti la guardia della Carpegna Prosciutto Basket Octavio Maretto e il coach nonché opinionista Mauro Procaccini. Il venerdì pomeriggio è come sempre anche il momento dedicato alla lettura, al commento al Vangelo della Domenica a cura di Don Marco Di Giorgio, l'appuntamento alle 17.30 con replica domani alle 16 e domenica alle 8 e alle 11 di mattina. E poi si avvicina sempre più il 77esimo Festival d'Arte Drammatica GAD che ricordiamo parte lunedì 14 ottobre, ne abbiamo parlato anche nel nostro telegiornale di ieri, lo faremo anche questa sera in questo approfondimento arrivato alla terza puntata, ovvero verso il Festival appuntamento alle 21.20. E a seguire, rispetto a Versul Festival, anche la riproposizione di uno spettacolo delle passate edizioni del GAD a partire dalle 21.40. Questa sera vi proporremo nove giorni della compagnia Teatro Villaggio Indipendente. e poi vi ricordiamo ancora una volta per chi ancora non lo avesse recepito che quest'anno la VL e Rossini TV hanno questo legame particolare, ovvero che Rossini TV è TV ufficiale della VL con le partite, tutte le partite di questa stagione di Serie 2 che vengono trasmesse indifferita, lo faremo per quanto riguarda la partita contro la Real Sebastiani Rieti, che vi ricordiamo si gioca domani sera, le repliche saranno domenica alle 21.30 e lunedì alle 21.00. Potrete rivedere dunque la partita integrale di questa trasferta della VL in terra laziale. E poi comincia anche il campionato della Pesaro Rugby e riparte anche la trasmissione delle gare indifferita dei Kiwi pesaresi su Rossini TV. Si comincia domenica in casa contro il Casale Rugby al Tecno World Rugby Park di Muraglia. Rivedrete la partita su Rossini TV martedì 15 ottobre alle 21.40. E dunque anche tanti appuntamenti sportivi sulla nostra emittente, appuntamenti che vi invitiamo a seguire in questo weekend. Mentre Buongiorno Rossini si conclude qui, vi ringrazio per averci seguito, vi saluto e vi auguro un buon proseguimento di giornata in compagnia dei nostri programmi. Grazie a tutti. Voglio vivere così col sole in fronte, E' felice canto, canto per te. E' felice canto, canto per te.